Good morning Pluggers, benvenuto amico al nostro ormai consueto appuntamento davanti al caffè per parlare di persone, storie, emozioni, ma anche e soprattutto giochi di ruolo. Oggi parlo di una cosa che stavo ascoltando ieri in un altro podcast, un podcast di videogiochi e che mi ha fatto riflettere, ma in prospettiva e nel campo dei giochi di ruolo, o giochi da tavolo, diciamo il confine sottile, in cui sono più sul pezzo, cioè le microtransazioni. Nei videogiochi questo male, questo mostro, questo diavolo essere demoniaco che è stato demonizzato negli ultimi periodi a causa di vicissitudini, soprattutto legate a un famoso titolo di Star Wars, sono nate con le microtransazioni, sono nate soprattutto con lo sviluppo di internet, con la possibilità di consegnare pacchette aggiuntive ai videogiochi attraverso la rete, attraverso il web e quindi eliminando il problema del negozio, della distribuzione classica e fisica del prodotto. Naturalmente se voi non dovete più andare al negozio a spendere un euro in più, 99 centesimi per avere quel personaggio in più, sarà molto più facile per le grandi aziende vendervi e per voi acquistarlo. A volte sono solo cose estetiche, altre volte sono cose sostanziali. Bene, portiamo tutto questo nel nostro campo, cioè nei giochi di ruolo. Cosa ne pensate di un gioco di ruolo in cui vi vendono la base del gioco e poi i personaggi magari anche non solo aggiuntivi, ma anche sostanziali e sostanzievoli, comunque necessari al gioco o comunque per un goderne appieno del gioco, siano venduti a parte, a 90 centesimi l'uno, 99 centesimi l'uno, 0.99 come si vende in famose catene di supermercati, oppure a 5 euro per dirti una piccola aggiunta all'avventura, oppure magari vi danno uno splatbook di una pagina, due pagine di ambientazione in modo che possiate aggiungerla al vostro prodotto. Immaginate una cosa tipo d'ancora, che è un inizio di avventura e poi vi vendono la città successiva a 2 euro, 3 euro e voi potete giocare un altro pezzo di avventura là, oppure vi vendono personaggi aggiuntivi a 99 centesimi. Certo voi direte col gioco di ruolo per avere l'elemento fisico in mano io comunque devo andare, quello bello intendo, quello cartonato, quello lucido, quello colorato, devo andare nella maggior parte dei casi in un negozio a comprarlo oppure in fiera a comprarlo, perché se lo trovo in internet è un print and play oppure addirittura un non print and solo play, ok? In modo in cui posso usufruirne, però se il contenuto è così pregevole a volte il contenitore non ha tutta questa valenza, o forse no, avete bisogno, hai bisogno caro amico di sentire in mano il cartoncino lucido e colorato per sentire di aver acquistato qualcosa. Nei videogiochi non è più così, però il contenuto mi soddisfa, lo compro perché voglio quella cosa, me la fanno desiderare. Stavo pensando per esempio a quello che hanno fatto anche con l'ultima torcia, in cui hanno venduto il gioco base però alcune classi, alcune aggiunte sono state vendute dopo. Nel gioco di ruolo c'è sempre stata questa cosa delle avventure aggiuntive, degli splatbook agentivi, delle informazioni aggiuntive sia sul sistema che sull'ambientazione, che sui personaggi, cose di color che venivano vendute dopo con supplementi. Naturalmente era chiuso in libretti di 50-130 pagine in modo che potesse soddisfare anche il distributore e la parte di ricavo che ne prende lui, la parte di guadagno. Adesso con internet è possibile magari fare una cosa diversa, cioè vendere il gioco e poi sul sito vendere le aggiunte. Quanto vi romperebbe i coglioni e qual è il vostro livello di sopportazione? Qual è il tuo livello di sopportazione amico? Se ti vendessero tipo Dungeon Dragons in cui c'è solo la parte iniziale in cui ti dicono di Elmaster cosa fa il tuo personaggio, hai queste caratteristiche, lui ti dice tira il dado e poi ti dà una descrizione e dà indicazioni sommarie al GM su come rispondere, ma ti desse solo il nano e il barbaro e l'elfo, tre classi fondamentali, e poi ti vendesse le altri a 99 centesimi. Saresti disposto a spendere poco all'inizio e poi spendere solo per quello che ti interessa? Oppure diresti è un furto, mi avete tolto cose che erano necessarie?